Di pari, come vuoi che vanno a gioco, mandava io con quell'anima carca, finché il soffersa il dolce pedagogo. Ma quando disse, lascia loro, e varca, che qui è buon con la vela e coi remi quantunque può ciascun pinger sua varca, dritto sì come andar vuolsi rifemi con la persona, avvegna che i pensieri mi rimanessero ecchinati e scemi. Io m'era mosso e seguì a volentieri del mio maestro i passi, ed a men due già mostravam come eravam leggeri. Ed el mi disse, volgi gli occhi in giù, buon ti sarà per tranquillarla via, vederlo letto delle piante tue. Come, perché di loro memoria sia, sovra i sepolti le tombe terragne, portan segnato quel che li era ampria, onde lì molte volte si ripiagne per la puntura della rimembranza che solo apì i date le calcagne, si vidio lì, ma di miglior sembianza secondo l'artificio, figurato quanto per via di fuor del monte avanza. Vedea colui che fu nobil creato più che altra creatura, giù dal cielo folgoreggiando scender da un lato. Vedea briareo, fitto dal telo celestial, giacer dall'altra parte, grave alla terra per lo mortal al gelo. Vedea timbreo, vedea pallade e marte armati ancora intorno al padre loro, mirar le membra di giganti sparte. Vedea nembrot, a piede il gran lavoro, quasi smarrito, e riguardar le genti che insennar con lui superbi foro. O mio beh, con che occhi dolenti vedea io te segnata in sulla strada tra sette e sette tuoi figliuoli spenti. O Saul, come sulla propria spada qui vi parevi morto in gelboè che poi non sentì pioggia né rugiada. O folle aragne, si vedea io te già mezza ragna, trista in su gli stracci dell'opera che mal per te si fè. O roboam, già non par che minacci qui vi il tuo segno, ma piende spavento nel porta un carro, senza c'altri il cacci. Mostrava ancora lo duro pavimento come Almeon a sua madre fe caro parer lo sventurato adornamento. Mostrava come i figli si gettaro sovra Sennacarib, dentro dal tempio, e come morto lui qui vi lasciaro. Mostrava la ruina e il crudo scempio che fe Tamiri quando disse a Ciro, sangue sitisti e io di sangue tempio. Mostrava come in rotta si fuggiro li assiri, poiché fu morto Oloferne e anche le reliquie del martiro. Vedea Troia in cenere e in caverne. O Ilion, come te basso e vile mostrava il segno che lì si discerne. Qual di pennell fu maestro, o di stile, che ritresse l'ombre e tratti chi vi mirar fariano un ingegno sottile. Mortili morti, e i vivi parean vivi. Non vide mei di me chi vide il vero, quant'io calcai, finché chinato givi. Or superbite, e via col viso altero, figliuoli d'Eva, e non chinate il volto, sicché veggiate il vostro mal sentero. Più era già per noi del monte volto e del cammin del sole assai più spesso, che non stimava l'animo non sciolto, quando colui che sempre innanzi atteso andava cominciò. Drizza la testa, non è più tempo di girsi sospeso. Vedi colà un angel che s'appresta per venire verso noi. Vedi che torna dal servigio del dì l'ancella sesta. Di reverenza il viso e gli atti adorna, sì che i diletti lo inviarci in suso. Pensa che questo dì mai non raggiorna. Io era ben del suo ammonire uso, pur di non perder tempo, sì che in quella matera non potea parlarmi chiuso. A noi venia la creatura bella, bianco vestita, e nella faccia quale par tremolando, mattutina stella, la braccia aperse e india aperse l'ale, disse Venite, qui son presso i gradi e agevolemente o mai si sale. A questo invito vegno molto radi, o gente umana, per volar su un'ata, perché a poco vento così cadi. Menocci ove la roccia era tagliata, qui vi mi battellali per la fronte, poi mi promise sicura l'andata. Come a man destra, per salire al monte dove siede la chiesa che soggioga la ben guidata, sopra Rubaconte, si rompe del montar l'ardita fuga per le scalee che si fero ad etade che era sicuro il quaderno e la doga, così s'allenta la ripa che cade qui vi ben ratta dall'altro girone, ma quinci e quindi l'alta pietra rade. Noi, volgendo ivi le nostre persone, beati pauperes spiritu, voci cantaron sì che non diria sermone. Ai, quanto son diverse quelle fuci dall'infernali, che qui vi per canti sentra e laggiù per lamenti feroci. Già montavam su per gli scaglion santi ed essermi parea troppo più lieve che per lo piano mi parea davanti. Ondio, maestro, di, qualcosa greve levata sé da me, che nulla quasi per me fatica andando si riceve. Rispose, quando i pì che son rimasi ancor nel volto tuo pressoché estinti, saranno come l'un del tutto rasi, fierli tuoi piedi al buon voler sì vinti, che non pur non fatica sentiranno, ma fia di letto loro esser sospinti. Allor feci io, come color che vanno con cosa in capo non da lor saputa, se non che cenni altrui sospacciar fanno, perché la mano ad accertar s'aiuta e cerca e truova e quello ufficio ad empie che non si può fornire per la veduta, e con le dita della destra scempie trovai pur sei le lettere che incise quel dalle chiavi a me sovra le tempie, a che guardando il mio duca sorrise. Grazie 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 Grazie